Credo che ci debba essere maggiore forza, credo che bisogna dire con molta forza che bisogna smettere questi interventi di Netanyahu ed è necessario intervenire con forza, perché in questo momento quello che sta facendo Netanyahu non è solo contro il popolo palestinese ma è contro il diritto anche del popolo israeliano, non è con la violenza, con l'odio che si risolvono questi problemi. Noi siamo qui per dire di fermare quel massacro che sta avvenendo sul popolo palestinese e allo stesso tempo insisto questo è il modo per riconoscere i due popoli e i due stati che per noi sono l'obiettivo di questa manifestazione e l'obiettivo che vogliamo realizzare. Per questo il governo e l'Europa ancora di più di quello che hanno fatto finora debbono sciogliere ogni ambiguità e muoversi in questa direzione.